hola mio youtube che tali stai? oggi per fin meno ma mi leggo la table che disesparazione la comprei in wish e la ultima vez che io compro in cina di verda l'express wish di verda è l'ultima quasi 2 mesi 2 mesi per una table di verda me la detuvieron in aduana e in ade maquia e non se che dicendo che ho una table non mi accettavano i documenti e ho pensato ayer mi lega il correo dicendomi che devo pagare 31,94 e dico insima che spero di pagare questa tasa buona si è allettatoria come si dica e uno grati 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 e l'altro paga l'unico tonto sono sempre io e asi che buona per lo meno già llego e sta qui non mi accettavano non mi accettavano non mi accettavano e qui e molto finita la verda parece ben ma o meno ligerita ma o meno e qui vengono su sus cose il caricatore e questo il cable per trasferirlo all'ordinatore e questo e questo per enchufare le cose che si chiama largo e mi venia a parte io credo che la vieron per averla e che la verda non conseguia che la aduana me la inviara è una tablet io credo che che la vieron e non sei e ho ricevi anche questo l'audifono e l'auricolo e l'altro cable non sei che asi che si è della ma sable e ora la voy a ascender a ver che tal spero bene la verda e poi naci asi che olvidate non comprare ma comprare tonteria brazalette collare o cose pequeñite che non non ora con il coronavirus meglio che non che non comprare ma in futuro si questo già si verà però di verda prefiero comprare in amazon pago algo ma almeno mi dica in seguita e sperare 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 e sperare